Fino a San Donato in bicicletta, da Pieve, da Pieve fino a San Donato con questa bella bici restaurata e rimontata oggi fino a San Donato da Pieve. Ecco qua l'inizio di San Donato e lì in fondo di là, di là, ce l'ha chiesa. Ecco, commentate se metto il video su YouTube, mettetevi piace.